Un omicidio premeditato. Secondo i carabinieri di Como, l'assassinio della 35enne Lidia Nussdorfi, ammozzate, attuato dal fornaio Dritan Dermiraj, che ha confessato è stato messo a punto con grande scrupolo. L'ex convivente della vittima, madre della più piccolo di due figli dell'uomo, sarebbe arrivato in auto, ammozzate con l'unico scopo di uccidere la donna. L'albanese, 29 anni, si sarebbe appostato nel sottopassaggio e l'avrebbe colpita, ma non sarebbe stato lui a fissarle l'appuntamento in stazione. I carabinieri di Rimini, a supporto dei colleghi di Como, lo hanno arrestato per omicidio dopo ore di interrogatorio. Arrestato per favoreggiamento il datore di lavoro, titolare del forno riminese, che avrebbe, forse solo per solidarietà, senza la piena consapevolezza dell'accaduto, fornito un alibi all'albanese. L'uomo che viveva a Rimini con i due figli, uno avuto dall'ex compagna, si sarebbe mosso in auto alla volta di mozzate e poi sarebbe tornato in Romagna. Dopo ore di interrogatorio in cui i carabinieri hanno colto le contraddizioni tra le dichiarazioni dell'albanese e quelle del datore di lavoro, soprattutto sugli orari di sabato notte, è arrivata la confessione. Il 29enne, che il carabiniere aveva raccontato della relazione finita sei mesi fa con Lidia Nussdorfi, si è detto tradito dalla donna col suo stesso cugino. Un nuovo amore per la 35enne, con un ragazzo poco più che ventenne che avrebbe scatenato la gelosia dell'ex.